3 novembre 1957, muore il sindacalista Giuseppe Di Vittorio, nato nel 1892 da una famiglia di braccianti agricoli pugliesi, a 15 anni inizia la sua attività politica e sindacale, sindacalista rivoluzionario, poi iscritto al partito comunista, soldato nella prima guerra mondiale, antifascista militante, in esilio durante gli anni del regime mussoliniano, Di Vittorio è volontario antifranchista nella guerra civile spagnola. Nel 1943, alla caduta del fascismo, è fra i fondatori della CGL Unitaria. Nel 1946 viene eletto all'Assemblea Costituente. Dal 1944 fino alla morte, Giuseppe Di Vittorio ricopre la carica di segretario generale della Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori.